ciao ragazzi noi siamo in magical dreams red aria e blu vi danno il benvenuto a questo nuovo video che si fa che si fa che si fa che si fa oggi ho portato una cosa per voi adesso voi dovete chiudere gli occhietti bravi bimbi non mi fido di loro due red 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 mi dice chiudi gli occhi ma non ti addormentare impossibile siccome io non mi fido di loro due non mi fido affatto e allora portato le pette blu rimani fermo in questo modo che cosa mi stai mettendo aria ma è una benda esatto red non devi dormire scusa chiudi gli occhietti sì ma che sorpresa è così non riesco a vederlo no stai bendando anche me quanti sono questi ma non riusciamo a vedere ma che cosa e questi ma questi cosa bene ragazzi non vedono nulla abbiamo fatto anche la prova e allora sono prontissima bene io adesso vi darò delle cosine in mano che si mangiano voi dovete indovinare il colore e se ci riuscite dovete indovinare anche il gusto da allora via adesso vi farò vedere una cosa quello che assaggeranno loro ve lo faccio vedere subito guardate tanto non vedono sentite che rumore io sento solo una bustina di plastica posso farvi sentire solo il rumore dai aria siamo curiosissimi dai soprattutto io ho fame e siamo pronti via via cosa red apri la manina devi indovinare il colore e il gusto e tu blu si apri la manina devi indovinare il colore e il gusto ma è una pallina che cos'è un odore di zucchero e un cioccolatino è un confetto è un confetto devo 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 indovinare devi indovinare il colore e il gusto ma i colori sono tantissimi e non te lo posso dire non posso dire neanche i colori ci stanno mi faccio indovinare il gusto lo sappiamo solo io e tutti loro hanno vabbè il colore molto zuccheroso anche il mio sembra che è un confetto bianco aria red il mio gusto è il cioccolato anche il mio con una nocciola interna esatto beh dai dei confetti sono tutti così e poi il colore o no qualche suggerimento di colori e va bene ve lo devo dire dunque glielo dico glielo dico va bene e i colori disponibili sono bianco azzurro e blu ok il mio è bianco il tuo red bianco sul gusto avete indovinato tutti e due ma sul colore uno di voi due non ha indovinato oh no 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 volete saperlo sì il primo punto di questa ma 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 va a orlo di tamburi a blu dai riproviamoci riproviamoci tieni red e tieni blu molto cioccolatoso in realtà questo ha un gusto più non so di di cacao esatto red è vero secondo me è proprio un blu 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 non lo so non so perché il mio mi dà un senso di azzurro hai tre secondi di tempo se vuoi cambiare se volete cambiare oppure volete mantenere no tanto non lo sapremo mai quindi o è blu azzurro bianco anche no il mio è blu dai mi butto io blu e allora lo sento di tamburi un punto a red e blu ma a me red tu non puoi guardare mi sorge il doppio che blu riesca mentre odora il confettino a guardarlo no è impossibile abbiamo la stessa benda me lo potete dire voi bambini mi raccomando prossimo coraggio confetto a blu apri la mano scusami e confetto a red vai oh questa è un'altra forma completamente è piatto sembra una tavola da surf stavolta vince chi indovina per primo il colore lo dice giusto avete cinque secondi di tempo per dire il colore cinque quattro cioccolato azzurro azzurro due no 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 signore e signori questo punto va a red no sono migliori sono migliori basta 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 sono migliori hai tutto bene? si eh si erano tutte e due bianchi i blu no quindi due punti per me? ho perso solo un punto red quindi state due a due esatto è l'ultimo perché lei ti ha sbagliato Pima? non me lo ricordavo adesso hai sbagliato tu eppure prima non si ride comunque è stata colpa di Aria mi ha dato un altro confetto con una forma diversa vedi io mi sto concentrando l'importante è che non mi viene il mal di pancia allora manina così e 3, 2, 1 e se la memoria non vi inganna via oh qui torniamo come va è un pallino allora intanto mangio torna di nuovo la nocciola ma è giusto scuro secondo me è blu proprio blu 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 secondo te? perché ricordo il penultimo di prima secondo me è blu non lo so l'ho mangiato la mia è proprio una nocciola ho lavato una spacca non so perché anche il mio secondo me è blu dunque vediamo se è blu oh rullo di tamburi comunque amici sono buonissimi questi confetti red si tu non hai la bocca rossa blu ce l'ha tutta blu sembra un puffo e che vuol dire? non te lo posso dire ma la risposta di questo confetto qual è? oh la risposta esatta è quella di red ma vieni ma dai sono il miglior red e anche il rumo anche io bravo però non vale non vale siete pari non la togliere oh no uno di voi deve vincere vuol dire che aria ci farà mangiare altri confetti? no troppo cioccolato fa male ragazzi qui torna il confetto avete cinque secondi di tempo anche per dirmi il colore cinque forma di senso tre e un'altra forma bianco 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 no 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 forse era azzurro una forma strana avete tre secondi di tempo per volerlo cambiare uno bianco con mandorla bianco con mandorla bianco resta bianco 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 con mandorla e allora risposta esatta di oh no di nuovo direbbe blu sì ma no no non ci deve esultare siete ancora pari quindi mangeremo altri confetti per tutta la notte no fa male il pancino l'ultimo vincerò io l'ultimo 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 basta preparati blu questa volta il mio fiuto e il mio gusto non mi inganneranno sì 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 l'ho visto sono pronta ultimo sono buonissima uno a red sì e uno a blu mamma mia questo non è né un pallino né una tavola da surf invece almeno proprio c'è una forma di un sassolino è un meno proprio pallino no però non ti gioca blu scusa il mio c'è la forma di un sassolino cinque secondi di tempo per dirmi il colore cinque quattro tre due blu 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 azzurro azzurro e allora conferma azzurro aria sì no tu avevi detto blu io me lo dico e quindi signori signori ma no ma ci danno ancora confetti c'è qualcosa che non va allora non ha visto nessuno quindi c'è ancora quattro a quattro un altro confetto sai che vuol dire blu che aria ci sta facendo ingrassare ultimo è decisivo via di nuovo il pallino ridorna secondo me è azzurro e tu? non lo so oh dai che cosa hai detto prima fianco? bruno di tamburi oh signore e signori questa manche la vince oh la vince la vince oh luce mi congratulo con te mi congratulo con te un gran uomo un gran uomo grazie io sono dell'opinione che lui guardava le ho indovinati quasi tutti ma è impossibile la mia stessa penda la prossima volta controlliamo pure noi sì ma a me fa male la pancia devo andare al bagno aria non si fida ma non sa che ho indovinato tutte le forme dei confetti ma ma non si fa che la prossima volta sbirciamo anche noi non si fa va bene non lo faremo va bene e allora non rimane che salutare i nostri amici si ristrutturati un applauso ciao ragazzi vi siete divertiti? eh tanto tantissimo io prima di andare al bagno volevo dirvi beh li dobbiamo salutare ma come al bagno tu hai il pannolino no non ho il pannolino e allora se vi è piaciuta questa puntata confettosa mi raccomando continuate a seguirci mettete un like condividete il video e soprattutto attivate la campanella sono stanca svegliati svegliati oh dove eravamo arrivati? niente ciao ragazzi alla prossima avventura ciao ciao ciao